Cani di campagna e cani di città, non tanto le differenze che potrebbero avere, ma i comportamenti. E ce li svela il nostro esperto appunto di linguaggio, uomo-cane, Michael Christopher. Allora Michael, noi vogliamo soltanto far capire come un cane che sta in città, poi quando arriva in campagna e viceversa. Esatto. Allora, partiamo dal fatto che non c'è uno meglio dell'altro o una battaglia tra il cane di campagna e città. Ma è sempre il contesto che diciamo crea svariati atteggiamenti sul soggetto. E partiamo un attimo da una cosa evidente che tu provi, io provo e tanti provano. Chi ha la possibilità di avere questo cambiamento? Se io vivo con il mio compagno quadrupede all'interno di un appartamento e lui si affida a me nelle sue uscite, lui si affida a me, diciamo molto più di quello che potrebbe fare avendo uno spazio aperto. Certo. Ha determinati tipi di comportamento. Sarà più propenso a chiederti prima di fare qualche cosa. Sì, ti guardano, lo posso fare. Quindi avere una comunicazione molto più stretta, perché il contesto tra delle mura è questo quello che crea. Certo. E soprattutto anche nei bisogni fisiologici, perché sei tu che apri e porti fuori il cane. Sì, sì, non è libero di fare. Quindi partiamo dalle cose semplici. Andiamo anche il benvenuto a Electra, che è qui, perché è qui distesa. È qui rilassatissima. Poverina, è rilassatissima. Lei è abituata anche, è diventata una diva televisiva. Se io mi sposto, come per esempio passato io con i miei quattro cani, da un appartamento dove avevo pronti al richiamo i cani, qualsiasi cosa gli chiedessi veniva esaudita la richiesta, mi sono spostato in una casa con terreno, ovviamente è saltato fuori di più la parte istintiva. Che è meravigliosa, eh? Rende più indipendente il cane questo e allo stesso tempo non si può pretendere di mandare il cane a fare territorio o comunque a fare le sue esperienze e pretendere che allo schiocco di dita torni da noi. Assolutamente. Va ricreato questo equilibrio. Quindi diciamo che non solo il cane cambia a seconda del contesto, quindi di campagna o di città, ma anche il conduttore stesso deve cambiare delle regole, tu lo sai, perché comunque... Fai vita tra città e lago e lo vedi in primis. No, io lo vedo nel mio cane, cambia totalmente, cambia, però non è che anzi... Ci sono dei tempi anche. Privilegio anche il fatto che riesca fuori il suo istinto, perché non dobbiamo sempre castrarlo, cioè come noi che voglio dire d'estate dovessimo stare vestiti da inverno, no? Tutto l'anno. Non solo, è quello il buon allenamento per il cane. Perché portarlo di fronte a un risveglio istintivo e a quel punto, perché abbiamo una fase, ok? In questo cambiamento abbiamo una fase in cui il cane deve riabituarsi e tirerà fuori un po' il peggio in delle situazioni, quello che per noi è il peggio. E dobbiamo riabituarci anche noi. Magari dobbiamo alzare i toni, magari dobbiamo cambiare fisicità, non basterà più un semplice vieni qui. E dico che è anche importante per questo che dovremmo avere un educatore, perché fondamentalmente... Perché poi i cani, io ti faccio domande di curiosità, si possono stressare? Assolutamente. E poi si ammalano, anche i cani si ammalano. È già uno stress il cambiamento per il cane, a meno che non si è abituato fin da cucciolo. E Lettra adora cambiare. È un cane che è abituato a spostarsi, sono cani fatti, diciamo, per essere così, è un po' un cani da conduzione, la soffrono un po' meno questa cosa se c'è attaccamento col conduttore. Cioè, quello deve esserci sempre l'attaccamento con... Quindi diventa funzionale un cane come Lettra nel momento in cui ci condivido il mio quotidiano, non è più funzionale un cane come Lettra nel momento in cui lo lascio in giardino, perché sono soggetti che in istinto tirano fuori un'alta predazione. E si risvegliano delle cose che ci sono, non è che vanno via, bisogna sempre stare un po' attenti. Quindi dobbiamo cercare di avere un equilibrio, e quindi mettere una marcia se sono in un luogo e metterne un'altra se sono in un altro. Ma la devo mettere io, non la devono mettere loro, anche perché poi c'è il momento in cui li devi lasciare andare. Ci sono dei soggetti che sono sicuramente predisposti a uno stile di vita, non posso pensare di prendere un cane da 50 kg, o meglio può vivere bene in appartamento, ma sarete voi che vi toglierete molto in questo caso, se volete creare questo equilibrio. Il cane è una bilancia, il cane ci arriva, ha superato le glaciazioni. I metodi educativi servono a noi, alla persona, perché se io sono in un modo funziono con un metodo educativo, se io sono in un altro modo funziono con un altro, loro ci arrivano. Infatti anche fare lezioni di educazione, come le vogliamo chiamare, serve più al conduttore che al cane stesso. E così io la vedo più, perché loro sanno... Il cane non manca niente, nel momento in cui mangia è a un posto decente dove poter dormire, vivere. Lui è già contento? Certamente sì, ma dal momento in cui scopre l'interazione c'è un qualcosa in più, noi gli si può togliere dopo questa cosa. Perché un cane di campagna, che voglio dire è sempre stato fuori, vive la vita da campagna, se si porta in città, quello è spaisato. Sicuramente avrà una fase non bella, soprattutto chi dà l'aperto, soprattutto chi deve reprimere l'istinto. Chi lo deve aprire... No, chi lo deve aprire è più felice, infatti ti stavo dicendo questo, no? Si crea un equilibrio, va creato un equilibrio. E quindi è importante capire che... Appoggiarsi anche a chi può aiutarti in questo. Perché se no, si rischia che poi il cane arriva e diventa... Non si può ragionare da essere umani sui cane, bisogna parlare il linguaggio del cane, perlomeno capirlo, non parlarlo. No, capirlo, perché loro ti fanno capire attraverso la coda, attraverso come si muovono, attraverso anche il respiro, perché a volte ti fanno capire il loro stato d'animo. Oggi i cani stanno più con le persone che con i cani, anche il linguaggio è diventato sempre più singolare. Non si può dire, e chi fa veramente questo tipo di lavoro? Ci sono dei professionisti superiori a me che ti possono assolutamente dire che un cane oggi parla un linguaggio e un altro ne può parlare un altro, a causa del contesto diverso. Vabbè, come si dice, no? Tutto quello che ci circonda ci trasforma e ci cambia, in meglio o in peggio. Però dobbiamo sempre cercare di trovare quel famoso equilibrio, perché avere un cane in famiglia, un animale in famiglia, che sia cane, gatto, quello che è, per me è un arricchimento. Assolutamente, è un buon modo per leggere l'anima delle persone. Ma non dipende mai dal cane se succede qualcosa. Allora io ringrazio il nostro Michael Christopher, esperto di linguaggio uomo-cane, per averci dato consigli che dovremmo sempre utilizzare con il buon senso. Grazie. Grazie.